La generazione Monidari ha una storia di due secoli, quindi dal 1804 ha una storia di imprenditori, non partendo subito dal caffè ma da una serie di attività che solo man mano negli anni, cambiando anche gli usi e i costumi di una piccola città, la famiglia ha cominciato in un certo modo per arrivare poi alla termine dove siamo. È una storia che parte da un Monidari che ad un certo momento ha pensato bene di mettersi nell'attività di salumeria, industria dei salumi, negozio molto importante nel centro della città, anche perché poi tutte le attività giravano nel centro della città, perché la periferia come la vediamo oggi non esisteva allora, col tempo le cose si sono evolute, la fabbrica non andava più bene nel centro della città, quindi ad un certo momento ci chiesero di allontanarci dalla città ed era nel periodo del 1919, quindi in un periodo in cui c'erano dei problemi non piccoli per quanto riguardava le gestioni familiari di questo genere. Mio padre allora, molto giovane, era praticamente nella guerra e a questo punto l'attività venne praticamente sospesa. Subito dopo la guerra si comincia a guardare di proseguire un insieme di attività che erano poi più orientati a ristorazione e bar. Tutti erano caffè, noi qui facevamo bar. Questo ebbe veramente un grosso successo, successo che continuò a tal punto che il prodotto caffè era diventato così importante, la qualità e tutto il resto che non ci accontentammo più della tostatura fatta artigianalmente, ma di cominciare a lavorare il prodotto in un modo molto più tecnico e quindi di lì cominciamo a pensare e si pensò e si fece la torrefazione quale oggi. La storia della trasformazione del caffè nella nostra azienda inizia con l'acquisto. Il caffè proviene dai tropici, appartiene a due specie botaniche che sono l'arabica e la robusta, che sono anche quotate in borsa. L'arabica è la borsa di New York e la robusta è la borsa di Londra. E a queste due specie corrispondono anche delle qualità organolettiche diverse, per cui l'arabica, che è un prodotto più pregiato perché è più difficile da coltivare, ha qualitativamente un aroma più floreale, più delicato, ha maggiore acidità, meno amaro, però ha anche poco corpo e fa poca crema in tazza. Il corpo viene dato dal robusta, che è leggermente più amaro, però molto più denso e conferisce molta crema e un bel colore alla tazza di caffè in tazza da bar. Noi riceviamo dei campioni di caffè che descrivono la qualità e la quantità di quello che noi abbiamo deciso di acquistare. In questo caso, ad esempio, caffè verde arabica Guatemala lavato. Qui abbiamo del caffè verde arabica naturale Brasile Santos New York 2 Fancy Strictly Soft Fine Capscreen 17-18. Noi abbiamo bisogno del campione per verificare se soddisfa i requisiti organolettici che noi desideriamo avere da questo prodotto, perché il caffè è comunque sempre un prodotto della terra. Quindi a secondo dell'annata, a secondo della provenienza della fazenda dove viene coltivato, in pratica il caffè può avere un risultato più o meno gradevole, può avere all'interno dei difetti o non averli. E con questo campioncino, con pochi grammi di caffè, noi in ufficio lo tostiamo su un tostino manuale di quelli che si usavano una volta nei bar all'inizio del Novecento e realizziamo una piccola quantità di caffè tostato. Il chicco diventa sempre leggermente più grande, perde acqua, perde peso, si secca e assume questo colore tonaca di frate che è quello che noi desideriamo avere. Ci sono poi dei colorimetri che ci consentono di verificare la costanza della tostatura. A questo punto lo maciniamo e lo consumiamo come si farebbe in qualsiasi famiglia, quindi su una moca. Cosa fa il torrefattore? Deve trovare le qualità che si trovano nel mondo di arabica e robusta per conferire alla propria miscela, con 4-5 qualità all'interno, quel sapore caratteristico che la contraddistingue. e volendo, come facciamo noi, avere anche tante miscele che vengono declinate su sapori diversi, per mercati diversi o per utenti diversi. Abbiamo sempre la possibilità, in base a eventuali differenze di anno in anno della provenienza che ci arriva, di aggiustare la ricetta su uno o più componenti in modo da mantenere il nostro gusto di quella ricetta sempre il più possibile costante. Questo è il tamburo dove vengono immessi 300 kg di caffè, è praticamente un grosso cestello che gira e mediamente il processo di tostatura dura, vediamo l'ultimo quanto è durato, l'ultimo è durato 16 minuti. Il processo di tostatura è diviso in vari step, in questo caso abbiamo 14 step, all'inizio del processo viene immessa un'aria che ha una temperatura molto alta, intorno ai 420 gradi, alla fine della tostatura invece si va a pescare dell'aria fresca per fare una sorta di lavaggio del caffè. Vengono immessi 300 kg di caffè crudo, alla fine del processo ne otteniamo 245-250, perché praticamente il caffè aumenta di dimensione leggermente e cala di peso, perde dell'umidità. Il caffè quando esce dalla tostatrice va a finire qui dentro nella vasca di raffreddamento, perché essendo molto caldo, se lo fermassimo prenderebbe immediatamente fuoco, quindi deve essere tenuto in movimento da queste pale rotanti, una volta uscito dalla vasca di raffreddamento va a finire in quella bilanza, dove viene registrato il peso e inviato al software. Dopodiché con un sistema pneumatico con dell'aria compressa, passa da quei tubi lì in alto e va a finire nelle linee di confezionamento. Là abbiamo quattro sili che possono contenere in questo caso solamente il caffè in grani e prima di andare al confezionamento passa da quel disco vibrante che all'interno ha una rete, non è altro che un setaccio che serve per separare i chicchi rotti da quelli integri. Sì, 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 sì. Ci sono affezionato e non posso non berlo. Questa è un po' una storia che naturalmente si mescola anche ad una storia della città. Girava tutto attorno a questo locale, quindi, non so, arrivava un personaggio politico o una persona importante della città, sicuramente si fermava al bar Molinari, perché era diventato un'era ed è tuttora un locale di una certa tradizione. Noi abbiamo visto crescere la città, l'abbiamo vista, l'abbiamo amata anche perché è logico e abbiamo seguito tutte le variazioni che si sono create in questa città. I consigli sono sempre una cosa molto difficile da dare. Direi che, arrivato tutto a certa età, si è molto portato a dare consigli, perché, anzi, ci si accorge che sono poi ascoltati poco. Quindi, bisogna credere a quello che si fa e crederci molto e non spaventarsi se ci sono momenti di difficoltà, perché se non ci si spaventa si riescono sempre a superare. Degli alti e bassi io ne ho visti un'enorme età, sia nell'attività della torrefazione, sia nell'attività del bar, delle ristorazioni, di tante altre cose che ho fatto e che non sto a raccontare, ma in qualsiasi momento si dice se questo non è andato bene troviamo un'altra strada, cambiamo il sistema, rimaniamo qui, però non buttiamoci giù e andiamo avanti. Mio padre diceva quando sei in un momento in cui hai delle difficoltà, ricordati che le superi sempre lavorando. Può sembrare una fesseria, però era così che si lavorava. E per me il lavoro deve essere qualcosa che poi alla fin fine ti dà delle grosse soddisfazioni. Per il resto ci deve essere passione e mai arrendersi. Allora ci si accorge che le complicazioni si risolvono. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.